Grazie a tutti. 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 Ok, è arrivata finalmente la presentazione. 18.30 tassativo, vai Marco. Buonasera a tutti. Cercherò di essere molto veloce. Ok, questa quarantina di minuti sarà dedicata, sarà divisa in due parti. Una prima parte sarà una ricognizione del lavoro di alcuni saggisti e giornalisti che hanno dedicato, e anche studiosi scientifici direi, che hanno dedicato attenzione e lavoro a questo fenomeno, quello che introduceva Marco prima. E poi faremo delle considerazioni finali, sempre il tutto, cercando di essere veloci. Il primo lavoro da cui partiamo è quello di Riccardo Stagliano che ha scritto un anno, un anno e mezzo fa un libro dal titolo Lavoretti, con un sottotitolo che secondo me è una provocazione perché quello di cui parliamo oggi non è sharing economy ma è gig economy. La sharing economy è un'economia della condivisione dove praticamente si dà per scontato che ci sia una condivisione gratuita di qualcosa, invece la gig economy come vedremo è tutta altra storia. Il contesto di Stagliano fa una storia che parte dagli anni 80 ma arrivando al 2008 con la storia della bolla immobiliare i tre avvenimenti, le tre dinamiche principali sono quelle per le quali uno non si arriva a fine mese e quindi c'è la necessità di arrotondare, quindi tutti hanno necessità di arrotondare e poi una cosa interessante è che si arrivano a far pagare quelli che prima erano dei favori tra amici. Quindi inizia la stagione dei lavoratori che fanno lavoretti. Se ne andiamo a cercare, stamattina ho cercato sul dizionario Cambridge Dictionary il termine gig molto informalmente vuol dire semplicemente lavoro. Una definizione che si avvicina un po' di più a quello di cui parleremo è quella dell'English Oxford Living Dictionary e che dice che il gig è un lavoro temporaneo per il quale c'è un futuro incerto. Qui entriamo nella parte che Stagliano fa secondo me molto bene, cioè quella di raccontare delle storie. La facciamo brevissima, però magari queste sono le cose più interessanti perché proprio il racconto di Stagliano fa toccare con mano quello che vivono questi lavoratori. Una prima storia è quella di Mary Jo che lavora in una piattaforma che è simile a quella di Uber che si chiama Lyft che addirittura accetta una chiamata mentre sta nella sua corsa verso l'ospedale quando stava per partorire. Quindi poi questa è una foto che addirittura ha fatto pubblicità a quella piattaforma. Poi c'è la storia di molti drivers che lavorano con Uber che addirittura per non perdere tempo, per non perdere lavoro e quindi la paga dormono nei parcheggi o addirittura questa è una storia paradossale di questa persona che vive in un parcheggio e lavora per pagare le rate della macchina che è stata presa in affitto proprio da Uber. Quindi questa immagine rende abbastanza bene la dicotomia che c'è tra chi nella parte sinistra gode in qualche modo e aumenta la propria qualità di vita sfruttando servizi e chi invece per garantire quei servizi agli altri addirittura deve portarsi il cuscino in macchina perché altrimenti perderebbe i turni. Un'altra storia che racconta Stagliano è quella di Michele che faceva il moderatore su una piattaforma che si chiama Ask.fm che è una piattaforma di un social network per adolescenti in cui però purtroppo vengono pubblicati tantissimi cosiddetti commenti di odio e Michele racconta la storia di chi come lui addirittura alla fine dell'esperienza di lavoro per quella piattaforma ha patito delle patologie appunto che sono simili a quelle dei reduci di guerra. Adesso non ricordo il nome tecnico ma nel libro questa cosa è descritta molto bene. Poi l'altro lavoro per esempio è quello dei moderatori come sappiamo ci sono che sono quelli che vanno a caccia delle cosiddette fake news e che fanno quei lavori che sono appena al di sopra delle capacità delle macchine e degli algoritmi. Su questo filone c'è Amazon Mechanical Turk che è una piattaforma in cui vengono reperite delle piccole, dei micro lavori che sono lavori del tipo taggare fotografie oppure mettere like a post su Facebook che sono dei micro lavori che sono pagati con delle paghe infime. Un'altra piattaforma iscritta da Stagliano è quella di Upwork che è una piattaforma dove si cercano freelancer e quindi freelancer si mettono a disposizione. C'è la piattaforma poi che serve per trovare chi va a fare le pulizie di casa. Quindi diciamo che il panorama è abbastanza variegato e se posso permettermi un commento è abbastanza inquietante. Ci spostiamo un attimo ma neanche tanto da questo paradigma per entrare nel mondo Amazon. Per citare un articolo che è uscito in Millennium che è un inserto mensile del fatto quotidiano che nel mese di dicembre oppure gennaio ha pubblicato la storia di un suo giornalista che si è fatto assumere da Amazon che è Luigi Franco e che ha raccontato i ritmi impressionanti ai quali vengono sottoposti i lavoratori nei magazzini. Quindi qui c'è il famoso magazzino logistico di Piacenza. Citando da questo articolo lui ha fatto anche delle interviste c'è praticamente vengono riportati dei problemi di salute quindi problemi all'apparato muscolo scheletrico, problemi, crisi di ansia e ci sono i racconti dei dottori sulle ambulanze che hanno raccolto di fatto i lavoratori con le dita irrigidite in iperventilazione. Quindi sono delle cose realmente accadute, sono fatti che ovviamente ognuno può poi commentare e sui quali si può ragionare. In questa tabella ho riportato quelle che le cifre che Stagliano riportano sempre nel suo libro sul totale delle riserve delle aziende che sono sulla colonna sinistra, le cosiddette over the top. Se le andiamo a sommare stiamo parlando di 500 miliardi di euro. Quindi nel 2016 tra Apple, Microsoft, Google eccetera eccetera avevano 500 miliardi di riserve. Colpisce che la Apple avesse il 92,8% di queste riserve addirittura offshore. Non è un caso che adesso passando dalla questione delle riserve di fatto nascoste si passi a una questione di welfare. Quelle riserve nascoste sono, ragiona Stagliano ma come dargli torto, sono delle somme che vengono letteralmente rubate al sistema del welfare delle nazioni in cui quelle piattaforme lavorano. Questa considerazione secondo me è una buonissima sintesi del suo libro. Quindi il fondatore di Uber è diventato miliardario pagando il meno possibile i suoi autisti anche perché quando non arrivano alla sussistenza interviene la collettività con i sussidi sociali pagati dalle tasse che la sua azienda è maestra nell'eludere. Questo è il paradigma. Un paradigma sul quale poi torna anche Benedetto Vecchi in un libro che si chiama Il capitalismo delle piattaforme individuando tre aspetti fondamentali. Quindi un primo aspetto è la raccolta dei dati ai fini commerciali, evasione fiscale e poi il fenomeno della sorveglianza attraverso le piattaforme digitali. lui parla di una composizione proteiforme del lavoro in cui come già accennavo prima esistono due modelli antitetici, cioè chi sta bene usufruendo dei servizi e chi sta male dalla parte di quelli che i servizi li offrono, cioè i lavoratori tramite piattaforma. Poi c'è la compresenza di chi fa lavoro qualificato, quindi non pensiamo soltanto ai manager ma anche agli sviluppatori delle piattaforme stesse e poi ci sono i lavoratori, quindi quelli che utilizzano quelle piattaforme per erogare servizi. E poi c'è, questo è un argomento interessante direi anche molto attuale, con presenza di lavoro migrante e di lavoro indigeno. Quello che accomuna tutte queste contraddizioni, in queste contraddizioni c'è una cosa che accomuna chi lavora, cioè la povertà, quindi il cosiddetto fenomeno dei working poor, il fatto che questi lavoratori di fatto non hanno troppi diritti o almeno non gli vengono riconosciuti in misura avvicinabile a quella di cui godono i lavoratori dipendenti e poi ovviamente c'è una invisibilità politica. Anche questa dell'invisibilità politica è una questione molto attuale, se pensiamo a quello che sta succedendo attualmente c'è una diatriba tra un sindacato, mi ero portato il casco, ho dimenticato, lo vorrei mettere qua sopra, dei riders di Bologna che stanno di fatto discutendo animatamente con il ministro del lavoro perché a dispetto del fatto che all'inizio, quindi otto mesi fa, quando il governo si era instaurato c'erano state delle rassicurazioni, se andiamo a vedere sulla pagina Facebook dei riders di Bologna, vediamo che invece le cose non stanno andando come invece avevano sperato. Il fatto che abbia messo questo casco qui non è una difesa che vuole essere soltanto per i riders, voglio semplicemente dire che la lotta che stanno facendo i riders di Bologna è paradigmatica perché riguarda tutti quanti i lavoratori che lavorano attraverso piattaforme digitali, una di queste, una categoria di queste è quella dei ciclofattorini, ma abbiamo visto prima che di piattaforme digitali ce ne sono tante di più. Quello che succede quindi è che tramite queste piattaforme c'è l'algoritmo che gestisce, è un algoritmo che non soltanto gestisce i contenuti che vengono condivisi sulle piattaforme, ma cosa più interessante e più subdola ma pervasiva allo stesso tempo è il fatto che l'algoritmo gestisce i processi di cooperazione sociale che avvengono sulle piattaforme. Per cooperazione sociale intendiamo quei fenomeni in cui c'è ricchezza nelle relazioni sociali che si instaurano tra le parti, quindi se pensiamo al fenomeno dei ciclofattorini staremmo parlando del contatto sociale che c'è, anzi che non c'è come vedremo, tra chi prenota il cibo e chi glielo va a portare. E poi un'altra cosa interessante della cooperazione sociale sarebbe l'elevato valore dell'innovazione, quindi tutti i passaggi che ci sono sulle piattaforme che portano ad una innovazione potenziale tramite connessione sociale tra persone è un fenomeno che così come appunto i contenuti stessi è il fenomeno stesso, questa dinamica che viene di fatto, che è nelle mani dei proprietari delle piattaforme. Questa parte qui è una piccola parte monografica se vogliamo su uno studio che è stato fatto da quattro scienziate dell'Università di Francoforte e che ha voluto studiare in una sorta di reverse engineering quello che è il funzionamento delle piattaforme di Foodora e Deliveroo. Iniziamo dalla fine, nel senso che questo lavoro ha portato le studiose a contatto con molti lavoratori di Foodora e Deliveroo e da questi hanno ricevuto queste impressioni. C'è chi dice ho dovuto smettere di lavorare perché purtroppo la piattaforma mi assegnava dei turni che io non potevo sostenere, oppure c'è chi si lamenta del fatto che il meccanismo di funzionamento della piattaforma è del tutto ignoto ai lavoratori. Lo scenario è questo, c'è Foodora che ha cominciato a trattare i suoi lavoratori come dipendenti con una paga oraria di 9 euro l'ora e Deliveroo che invece non li riconosce come tali e che tramite dei calcoli che sono stati fatti arriva a pagare 5 euro a consegna. Lo studio riguarda il contesto berlinese, quindi hanno lavorato, hanno intervistato i riders in questa città e ci sono dei risultati empirici. Innanzitutto per poter lavorare con Foodora e Deliveroo occorre dotarsi di una bicicletta, di uno smartphone e direi anche di un casco. Deliveroo utilizza un'applicazione che si chiama Rider mentre Foodora ne utilizza un'altra che si chiama Roadrunner. Per eseguire tutto il procedimento occorre accettare l'ordine, andare al ristorante, prendere il cibo, metterlo nella borsa, andare dal cliente e quindi consegnarlo. Quello che attira i lavoratori è la frase si il capo di te stesso, quindi è un'esca in qualche modo che queste aziende mettono a disposizione di chi vuole lavorare per loro. Effettivamente i ciclofattorini, i riders, hanno l'impressione di poter scegliere liberamente il quando, il dove e il come lavorare. Il problema è che, la questione è che i riders cedono sicuramente tanti dati, per esempio con i tap sullo smartphone e anche con i loro dati di georeferenziazione durante la loro attività e questi dati sono calcolati in un modo che non è noto per calcolare i guadagni e gli incentivi monetari e per compilare delle statistiche personali. Queste statistiche sono quelle che poi categorizzano i riders in delle fasce che sono suddivise per priorità rispetto alla scelta dei turni in cui lavorare. Quindi chi ha ottenuto più punti si trova in una fascia privilegiata e può scegliere durante la giornata lavorativa una fascia oraria che ovviamente è quella più comoda. Fino ad andare alle fasce più basse in cui gli orari sono molto più proibitivi, quindi di notte in condizioni magari non proprio comode. Quindi abbiamo detto che i riders cedono dati, ma nello stesso tempo ad essi non vengono date delle informazioni fondamentali perché poi loro possano decidere autonomamente come poter lavorare. E questa è quella che in questo studio viene chiamata simmetria informativa che di fatto porta al problema del controllo. Questo è un riassunto di quello che abbiamo detto prima. Quelli sono i passaggi che vengono fatti, quindi ad andare al ristorante a consegnare il cibo. Se vedete sulla sinistra c'è un tachimetro che praticamente grazie al sistema di incentivi in tempo reale che i riders ricevono, mette nelle condizioni il lavoratore di andare sempre più veloce. Alla fine, dopo l'ultima palla verde, c'è uno svam con il quale ho voluto riportare alla mente i tantissimi incidenti, alcuni sono anche, almeno uno ricordo sia morto, di rider perché appunto si è portati allo stremo in un meccanismo che non è molto diverso da quello che descrive Luigi Franco nell'articolo che citavo prima su Amazon. La fotografia in Italia è questa, ne abbiamo di fattorini, ce ne sono 10.000 ma come dicevo prima, preoccuparsi di questa questione non significa prendere in considerazione solo il caso di 10.000 lavoratori ma si tratta di prendere in considerazione tutti quelli che lavorano grazie alle piattaforme digitali. Quindi tra le prime conclusioni dello studio innanzitutto c'è, a dispetto di quello che Fudor e Deliveroo, soprattutto Deliveroo perché tratta i suoi lavoratori come autonomi a dispetto di quello che dicono c'è effettivamente un controllo questo controllo viene esplicitato tramite notifiche automatiche, incentivi monetari tramite una competizione interna per il turno secondo quel meccanismo di fascia a cui accennavo prima e poi grazie alla simmetria informativa. La linea aziendale sostanzialmente è quella di mettere in modo opaco far credere che il lavoratore sia a diretto contatto con quelle che sono le dinamiche del mercato e quindi si configurerebbe un lavoratore autonomo, quindi se è direttamente a contatto col mercato il lavoratore autonomo. Il problema è questo che emerge dallo studio e che l'algoritmo opaco è di fatto esercita il controllo che è il controllo del datore di lavoro che porterebbe a definire i lavoratori come lavoratori dipendenti. L'applicazione abbiamo detto quindi fa, gestisce il quando, il dove, il come elimina la presenza del capo ma soprattutto lo scambio sociale tra le persone, tra tutti gli attori che ci sono nello scenario. Quindi la risposta che lo studio dà è che di fatto questi lavoratori sono dei lavoratori dipendenti e come tali andrebbero trattati. Lo studio contiene anche una piccola ricognizione di alcuni casi legali, diciamo così, nel 2017 nel Regno Unito e in Spagna, poi sappiamo cosa è successo a gennaio 2019 in Italia e poi anche abbiamo visto sempre a gennaio 2019 in Olanda di fatto si va verso quella strada cioè riconoscere i riders come lavoratori dipendenti o almeno così dovrebbero andare le cose. Un interessante punto di vista è quello di Valerio De Stefano che nello scorso Festival dell'Economia di Trento ha detto che a chi gli poleva la domanda se si potesse identificare delle tutele dei diritti e un tipo di statuto speciale per la gig economy, lui rispondeva no perché la gig economy è parte del mercato del lavoro e che quindi occorre semplicemente adattare le regole che ci sono senza inventarne di nuove. Diciamo che, come dicevo all'inizio, è una materia abbastanza calda perché sono questioni in discussione nel governo. Questo è solo un bookmark per richiamare l'attenzione alla pagina Facebook di questo sindacato dove c'è una cronaca abbastanza serrata di quelli che sono i rapporti tra le loro azioni e i rapporti rispetto alle azioni che vengono fatte a livello governativo. Qui entriamo nella parte delle considerazioni finali. Fino ad ora ho cercato, ma non sono sicuro di esserci riuscito, di raccontare solo quello che era riportato nei libri e negli articoli di giornale. Sicuramente l'ho condito con qualche considerazione personale. Adesso, da questo momento in poi, mi sento più libero di farle. Ritornando alla questione del welfare, questa considerazione di Riccardo Stagliano è anche molto triste perché Stagliano nel suo libro porta il caso personale del padre che era malato e che lui dice, mio padre è stato nelle condizioni di potersi curare perché durante la sua vita lavorativa aveva potuto fare in modo che il sistema del welfare lo potesse garantire una volta finito il lavoro. E questa è una condizione che ai ciclofattorini, almeno a moltissimi di essi, non viene garantita. Così come non viene garantita agli altri laboratori di cui abbiamo parlato prima nella parte iniziale che lavorano attraverso piattaforma. Una soluzione che Riccardo Stagliano presenta è quella del reddito di cittadinanza. Un reddito di cittadinanza che non andrebbe in effetti inteso come lo intende la misura del reddito di inserimento del governo Renzi Gentiloni oppure quella attuale del governo Salvini, Di Maio, Conte. Semplicemente perché le misure del reddito di cittadinanza, queste misure qui di Renzi, Gentiloni, Salvini e Di Maio o sono delle misure che sono legate al mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza invece al quale Stagliano si riferisce è un reddito di cittadinanza che implementi il cosiddetto diritto all'esistenza, cioè è un'altra cosa. Come antidoto al capitalismo delle piattaforme, Benedetto Vecchi nel suo testo auspica di creare un metodo che riporti la cooperazione sociale a livello di chi la fa è un metodo che sia esso stesso frutto di cooperazione sociale. E qui vengono in mente delle misure che si chiamano sovranismo digitale che è un tema molto interessante affrontato da Morozov e Bria in un altro libro interessante che si chiama sulle smart city in cui presentano dei casi già di successo di come in alcune città vengono gestite piattaforme, questo è un esempio che si chiama Decode vengono gestite piattaforme nelle quali però la proprietà delle piattaforme è una proprietà collettiva. Quindi questa piattaforma per esempio è una piattaforma in cui i cittadini sono sia generatori ma anche sono sia generatori sia utilizzatori dei dati. Per quanto riguarda la coprogettazione della piattaforma quindi è come dire che questa piattaforma qui viene fatta per condividere dati e perché questi dati siano utilizzati dai cittadini ma è la piattaforma stessa ad essere progettata dai cittadini e questa si chiama coprogettazione della piattaforma che è un tema che a noi di LST è carissimo perché riguarda quella che è la cosiddetta negoziazione dell'algoritmo. Per quanto riguarda la valutazione algoritmica del lavoro qui sono tre slide velocissime che richiamano un libro di Katie O'Neill che si chiama Armi di distruzione matematica e tra le soluzioni che lei in un capitolo è dedicato proprio al lavoro le soluzioni di Katie O'Neill erano utilizzare i giornalisti perché facciano monitoraggio e utilizzare i sindacati perché esercitino controllo e facciano proposte in termini di regolamentazione. Quello che a me personalmente ha colpito leggendo lo studio su Fudore e Deliveroo è stata la voglia di chi va a lavorare utilizzando queste piattaforme digitali la richiesta non tanto di tutele ma soprattutto di flessibilità e questa è secondo me una beffa perché poi alla fine come abbiamo visto come loro hanno dimostrato nello studio la flessibilità è soltanto promessa ma non è garantita. Un'altra osservazione è che di fatto queste piattaforme portano ad un totale annullamento del contatto umano. in questi giorni è ricorso il trentesimo anniversario della nascita del web e all'inizio si pensava che internet, la rete potesse mettere in connessione le persone ed è stato così con molti casi positivi però è anche vero che poi è arrivato l'eatspeech, è arrivata la polarizzazione delle conversazioni quindi le persone sono entrate in contatto e prima hanno fatto la pace e poi banalizzando tantissimo per questioni di tempo il concetto adesso si fanno la guerra. Quello che succede su queste piattaforme è che addirittura il contatto umano non c'è se non nell'atto di consegna, se pensiamo ai ciclofattorini, nell'atto di consegna del cibo. Concludo con due ultime considerazioni. Questo caso viene riportato in un video pubblicato sul Repubblica in cui viene intervistato un ciclofattorino che dice io faccio 2000 euro al mese e lavoro 57 ore al settimana. Il problema è che senza rifletterci troppo potrebbero sembrare dei dati molto buoni. Quello che succede però è che per arrivare a quelle cifre questa persona lavora sette giorni su sette quindi anche il sabato e la domenica senza ovviamente tutte le garanzie di cui abbiamo parlato prima. E poi quest'altro è un esercizio magari anche non molto, non so, è una provocazione. Riprendendo la tabella che abbiamo visto prima sul totale delle riserve sommando e convertendo in euro viene fuori che nel 2016 le OTT avevano accumulato 450 miliardi di euro che se pensiamo ai 10 miliardi di euro che grossomodo costa la manovra del reddito di cittadinanza che abbiamo adesso in Italia significa che nel 2016 le OTT avevano delle riserve che possono pagare 40 anni di reddito di cittadinanza in Italia. Ho finito. Se ci sono domande naturalmente Marco è qui per rispondere, abbiamo ancora qualche minuto. in caso contrario ci salutiamo e chiudiamo la manifestazione. Domande? Nessuna domanda? Bene. Sì? Domanda. Pronti domanda? Banale. Intanto sono Raffaele. Volevo complimentarvi molto con questo ultimo lavoro, con lui personalmente. e poi volevo fargli una domanda forse impropria, sbagliata. La sensazione che ha un osservatore di questi fenomeni è che i mali che si vogliono correggere sono inerenti proprio alla natura stessa delle imprese, delle realtà emerse col contagio del digitale e tutto quanto, a cominciare da Facebook, per capirci. Allora mi chiedevo, e la domanda è questa, e mi rendo conto che è molto ingenua, se non si possa pensare al fatto che le comunità, anche sul piano locale, per esempio una città, Milano, che pretende di essere una città modello, non possa intervenire a correzione anche per il proprio interesse. Esempio, le assicurazioni dei rider sono una cosa molto debole e contraddittoria. Allora il Comune di Milano, è una cosa che io mi propongo di dirgli, potrebbe con un investimento della comunità intervenire su questi fenomeni qui, diciamo a nome dei valori della comunità, perché la correzione interna, secondo me, è improponibile. Tu che pensi? Mi sono ricordato in questo momento che a Bologna, oltre ad essere presente il sindacato, a Bologna, il Comune di Bologna ha fatto una carta dei diritti, quindi io l'ho guardata e secondo me nulla vieta a cambiarne l'intestazione e riprodurla a livello di tutti i comuni, a questo punto parliamo di Italia, di tutti i comuni italiani, quindi per la prima parte. Sulla parte delle piattaforme diciamo che si sfonda una porta aperta, perché le possibilità ci sono e mentre fino, almeno parlo personalmente, mentre fino a due o tre anni fa poteva sembrare un volo pindarico e un'idea anche strampalata, soltanto per il gusto di dirla, il libro che ho citato prima di Morozov e Francesca Abria ci dice che invece dei modelli in cui, adesso diciamo il concetto è più astratto rispetto al caso specifico dei ciclofattorini, il modello però per il quale esiste una proprietà collettiva della piattaforma che a questo punto distribuisce, che ne so, contenuti, servizi, è un modello che esiste e funziona. Io in questo libro, prima ho citato il caso, adesso ho citato questo caso qui, questo caso qui si chiama Decode, ma in quel libro lì c'è un elenco impressionante di casi di studio positivi che quindi sono, diciamo, si tratta da ovviamente non prenderli così come sono, ma funzionano, almeno volendosi fidare degli autori che li hanno presentati e tutti quanti sono improntati alla gestione del bene comune, quindi inteso anche qui in senso molto generale. Altre domande? Nessuna domanda? Bene, grazie a Marco Dal Pozzo, grazie a voi per essere stati con noi e ci vediamo presto.